Le conseguenze economiche della pandemia da Covid-19 hanno messo in crisi le fasce sociali più deboli che già avevano difficoltà nell'usufruire del diritto alla casa. È quanto emerge dall'incontro in cui si è parlato del nono rapporto sulla condizione abitativa in Toscana. I dati sono riferiti al 2019, ma inevitabilmente si è parlato anche del 2020, segnato dalla pandemia, e in cui il governo ha deciso il blocco degli sfratti che un anno prima in Toscana erano stati 2.260 su 3.300 richiesti. Nel 2019 in Toscana sono 46.000 i nuclei familiari che vivono in una casa popolare. Di questi l'88,4% sono italiani e il resto stranieri. Gli assegnatari che provengono da altri paesi e che sono residenti nella nostra regione stanno in una graduatoria analogamente come stanno nel nostro paese, vivono il lavoro e mandano i figli a scuola e la percentuale delle persone a cui viene assegnata loro la casa corrisponde proporzionalmente alla percentuale di presenza nella nostra regione. Spinelli ha sottolineato che è necessario dare ancora più centralità e risorse per il tema della casa, a maggior ragione quando terminerà il blocco degli sfratti. Le previsioni a breve termine indicano un possibile innalzamento di domande per l'accesso all'edilizia pubblica residenziale. Noi abbiamo la necessità di riprendere e investire sul diritto all'abitare in tutte le sue modalità di risposta dall'edilizia residenziale pubblica all'edilizia residenziale sociale a canone calmerato, ad una possibilità maggiore di contribuzione sugli affitti e alla possibilità di sostenere le famiglie in termini di accesso e di rimanere nella casa dove sono affittuari. E ci aspettiamo che questi elementi nel 2021 che abbiamo di fronte potrebbero essere fortemente accentuati perché chiaramente sebbene meno il blocco degli sfratti e aumentando il tema della povertà, abbiamo presentato qualche giorno fa proprio il rapporto della povertà, è chiaro che il tema dell'accesso alla casa, il tema del sostegno all'affitto è un tema che diventerà ancora più imponente e importante. Il patrimonio ERP in Toscana è composto da 49.996 alloggi. Per il triennio 2020-2022 la regione ha destinato 32,4 milioni di euro per interventi di manutenzione, qualificazione, efficientamento energetico e ripristino del patrimonio ERP.